Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17 settembre. Intanto fatemi ringraziare tutti quelli che ieri sera hanno visto Quarta Repubblica, è stata una serata di grandissimo successo come ascolti, è stata anche divertente per me che l'ho condotta, devo dire, ringrazio veramente tutto il pubblico che è stato numerosissimo. Quali sono i temi di giornata? Li abbiamo visti, se avete visto ieri Quarta Repubblica, ieri sera in diretta, perché ieri sera in diretta a Quarta Repubblica, e questa mattina lo leggete sui giornali, c'era Alessandro Sallusti. Due giornali oggi hanno una intervista a Renzi, un'intervista in forma di virgolettati, carpita da Minzolini sul giornale, e un'intervista, vera e propria domanda e risposta, fatta dalla Cuzzocrea sul Repubblica. Interviste a Renzi che molla, come dice sinteticamente il giornale, il Partito Democratico. Sinistra e Governo a pezzi è l'interpretazione che dà il giornale di quest'operazione, fatta da Matteo Renzi. Vediamo che cosa dice esattamente. Saluto a Giampaolo Serino che ci sta guardando su Facebook, Giampaolo fa dei pezzi favolosi per il sito nicolaporro.it, io vi consiglio di vederli, oltre ovviamente ai libri e a tutte le cose che conoscete di Giampaolo. Luca, buongiorno anche a te, vedo Don Adele, Natalia, Lella, Antonella, e allora andiamo avanti, vedo Françoise che invece mi sta seguendo su Instagram. Cosa è il senso dell'intervista di Renzi sul Repubblica? Vi do i punti fondamentali, piccolo libretto di istruzioni su quello che pensa Renzi. Prima questione, cosa farà Renzi? Voglio passare i prossimi mesi a combattere contro Salvini. Quindi il punto fondamentale della polemica di Renzi è contro Salvini. Uno potrebbe chiedersi, ma scusami, se vuoi combattere contro Salvini, ma perché sei uscito dal Partito Democratico? La prima risposta è questa. Quindi il posizionamento del partito è combattere contro Salvini. Ma evidentemente questa cosa qua non poteva farla nel PD. Mi stupirei perché mi sembra che il PD sia il partito ovviamente più antisalviniano che ci sia oggi in Italia. Da Franceschini agli altri così sono. Ma lasciamo perdere. Si posiziona, chiede la Cuzzocrea, a destra, a sinistra, in centro, dove cavolo si crea? Anche perché qualcuno oggi mi sembra Travaglio dice che non c'era bisogno di un nuovo centrino. E lui dice che la risposta è favolosa. Né di destra né di centro. Occupiamo lo spazio del futuro. C'è un piccolo dettaglio che non si riesce bene a capire dove sia nell'emiciclo parlamentare occupare lo spazio del futuro in alto, in una specie di cupola. Ancora non è ben chiaro. È bellissima la frase di Renzi. La risposta però è un po' obliqua. Oggi occupare lo spazio del futuro. Probabilmente tutti i partiti vogliono occuparlo. Poi dice Ma insomma, perché te ne sei andato dal via del PD? Beh, ma perché stai facendo un dispetto a Zingaretti? Lui dice No, non faccio un dispetto a Zingaretti. Perché lui finalmente potrà dire che il Partito Democratico e i suoi gruppi parlamentari non sono più renzizzati. Ora non avrà più scuse. Anche Conte deve essere contento. Perché amplierà la base parlamentare. Allora, sulla prima cosa è chiaramente una presa per i fondelli nei confronti di Zingaretti. Perché Zingaretti, segretario del PD, che vede una scissione al suo interno e verrebbe da dire come Moretti finalmente, per quelli che amano la sinistra, Renzi ha fatto una cosa perfettamente da comunista. Perfettamente di sinistra. Renzi finalmente ha fatto una scissione. Non c'è un comunista che non si sia scisso. Non che il centrodestra stia meglio, per carità. Ma a sinistra di quel partito ci sono state scissioni come da Livorno. È un mondo di scissioni. Ma il fatto che dice Conte allarghiamo la base parlamentare fa intendere che questi gruppi che al Minzolini, sul giornale dice saranno una ventina di parlamentari alla Camera e una decina al Senato fa intendere come se lui potesse aggregare anche parlamentari che prima non stavano con Conte. E allora a questo punto è la caccia al cosiddetto responsabile. Qualcuno dice che da Forza Italia potrebbero arrivare il gruppo di Carfagna e compagna cantante dicono alcuni giornali. Poi del PD un po' di veleno ancora Renzi cioè oggi il PD è un insieme di correnti fantastico come se ieri non lo fosse come se l'altro ieri non lo sia stato come se non ci hanno detto che le correnti sono anche l'anima il sale della democrazia. Le correnti del PD adesso però evidentemente in questo ha perfettamente ragione Renzi totalmente da vendere cioè le correnti del PD sono diventati un disastro. Poi dice ritorneranno Bersani e D'Alema che uscirono proprio durante la segreteria nel 2017 di Renzi e quindi sfotte un po' dice perdono me ma avranno Bersani e D'Alema. Però su questo sia Franco sia Travaglio lo infilzano perché dicono ti ricordi quando si andarono Bersani e D'Alema e tu eri segretario del PD come li avevi mandati a quel paese dicendo che l'opposizione si poteva fare all'interno che comunque meglio che se ne andassero cioè gli rinfacciano tutte le diciamo le scortesie che Renzi da segretario è usato verso gli scissionisti oggi lui non è segretario e si è scisso. Devo dire che il titolo del messaggero se uno volesse avere un atteggiamento icastico nei confronti di questa scissione di Matteo Renzi è perfetto. Messaggero lascio il PD non il governo detto questo è del tutto evidente che lui avrà una specie di se lui veramente dovesse avere dieci senatori e il governo campa a 171 voti al Senato contro 161 che la maggioranza e dieci senatori di Renzi direi che sono piuttosto determinanti quindi lui ha una specie di golden power una grande potere tanto che come si chiama Maurizio Belpietro gli dice questo è arrivato lì sulla verità soltanto per fare le prossime nomine che sono moltissime e delle nomine la Cuzzocrea che fa un'intervista molto bella e quindi mi congratulo davvero non dico ironicamente con la Cuzzocrea io sono talmente un cretino che insulto sempre tutti però quando c'è una bella intervista bisogna riconoscerlo la Cuzzocrea intervista Renzi e dice tu ti sei fatto la scissione perché volevi fare le nomine che ci sono ora ci sono 300 400 nomine di partecipazioni statali ed è incredibile come di fatto come si dice il bambino che ruba la marmellata la prima cosa che fa è guardare il dito sporco di marmellata e sostanzialmente si autodenuncia e Renzi dice no io assolutamente di nomine non me ne voglio occupare d'altronde voglio dire all'Enel c'è uno che ho nominato io che contribuiamo a nominare noi durante il mio governo e che ha reso grandissima l'Enel e quindi me lo riconferma e poi non riesco a capire perché ad esempio Finmeccanica e Fincantieri cioè Leonardo e Fincantieri non debbano stare fuse insieme prima che ce le compri qualcuno io non entro nel merito delle sue scelte ma entro sul fatto che lui si occupa di questioni di partecipazioni dice che sulle regionali loro non faranno quelli del partito di Renzi non faranno le loro liste e vedremo a vedere come si comporteranno alle regionali che è il secondo grande incredibile tema di questa settimana perché l'idea che in Umbria il titolo è perfetto i grillini Umbri hanno fatto secco il PD ora devono resuscitarlo e votarlo questo è il titolo della verità di Belpietro e ha perfettamente ragione mentre invece il fatto che è il giornale diciamo il giornale del Movimento 5 Stelle sentite un po' come ci racconta questa incredibile vicenda per cui la Davigo grillina dell'Umbria fa fuori il presidente dell'Umbria la Marini cioè non l'ultima arrivata la fa fuori per una serie di inchieste sulla sanità e dopo ci troviamo un'intervista di Di Maio che dice sull'Umbria possiamo fare le liste civiche possono arrivare dei grandi personaggi eccetera e dice liste civiche i dinosauri ora tremano cioè il fatto non si accorge della luna ma del dito cioè Di Maio dice facciamo le liste civiche la luna è che in Umbria grillini e PD faranno una stessa alleanza se ci riescono cioè esattamente i ladri con cui sono ossessionati il codice di procedura penale che è tra i due neuroni unici esistenti di Travaglio intervista a Cucinelli che è una di delle altre cose straordinarie l'imprenditore del Kashmir uno per cui nessuno di noi probabilmente si può permettere uno dei suoi pullover a prezzo intero speriamo che ci sia scontato perché altrimenti insomma spagare 1500 euro ci sono dei prezzi che ti viene da ridere che però questa unione tra il PD e il Movimento 5 Stelle gli piace tanto ed era onorato che l'avessero candidato con le solite 15 citazioni di Dante Cucinelli dice che non si candida e grazie al cavolo ed è come possiamo dire Cucinelli è un personaggio straordinario ha un'azienda straordinaria e rappresenta l'ascissione ipocrita tra quello che lui dice e quello che lui fa una specie di sant'uomo in quello che dice e un imprenditore molto determinato in quello che fa meglio l'imprenditore diciamo che l'uomo politico che oggi leggete in una intervista i commercialisti no scusatemi prima dei commercialisti l'altra notizia della giornata è che salta anche l'amministratore delegato dell'autostrada Castellucci beh obiettivamente a buon gioco il fatto a dire perché dopo 13 mesi il ponte Morandi così come in realtà si tratta ricordatelo vi può stare antipatica questa situazione di Atlantia potete non amare i Benetton io non li amo affatto i Benetton ma stiamo parlando di una delle poche multinazionali italiane che stanno conquistando gran parte del successo in giro per il mondo si sono comprati Avertis che è una società concessionaria di autostrade in Spagna hanno la presenza negli aeroporti di Nizza sono forti in Sud America fare fuori una delle nostre multinazionali rischia di fare quella cazzata che abbiamo fatto con i Riva che poi prendiamo un'azienda come l'Ilva e la svendiamo agli indiani stiamo attenti a come tocchiamo autostrade non che non si debbano mettere in galera i delinquenti non che si debbano punire non che gli si debba far pagare i soldi per i danni che hanno combinato non che non gli si debba controllare sugli investimenti ma attento a buttare tutto in cacciara i commercialisti fanno sciopero tra poco il motivo è molto semplice ci sono questi ISA che riguardano anche me che sono una minchiata partorita da un barbaro che fa il burocrate che non ha mai lavorato in vita sua bene fanno bene a scioperare solidarietà all'unico sciopero che io potrei apprezzare e cioè di questi commercialisti che vivono soltanto per compilare le minchiate le cazzate burocratiche che si inventano politici e burocrati che hanno lo stipendio bello cotto alla fine del mese va bene? commercialisti perfettamente con voi per quanto vi riguarda il tutto trovate fantastico oggi su desiderio sul mio sito pezzo di desiderio sulle ultime minchiate è detta dal ministro della giustizia Fioramonti riguardo alla scuola andate sul sito nicolapauro.it ciao ciao ciao